Il rischio grave è quello di generare invece, appena di fuori questa situazione, una concentrazione invece molto più alta. Per cui credo che dal punto di vista, visto che si è accennato prima, a fatto che poi il livello della politica è quello che è più comunque, decisioni di sistema. Questi interventi, questi studi confermano appunto il fatto che i interventi punti in informe, oppure in altri temporali molto ristretti, hanno dei contraporti e effetti di contorno molto molto seri, sui quali c'è la politica, per esempio, non può essere se non come scelta complessiva, proprio di metodo generale, c'è un avanzamento di tutto il sistema. La periferia non può, come dire, essere penalizzata dal fatto che io sto tutelando il centro, perché l'uomo non la ci vive, la ci lavora, la ci fa a scuola. Io sono Bruno Variante, sono il presidente di Civitas, sono stato assessore all'ambiente del Comune di Como, sono lavorato in fisica e quindi su queste materie dovete avere qualche pazienza.